Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 29 giugno, sono le 9.20 e ciò che segnalavo nelle scorse analisi si è rivelato corretto, ovvero se andate a prendere quella del weekend e le successive mi aspettavo dopo una discesa una ripartenza nei tempi ciclici corretti per far iniziare che cosa? Come minimo un settimanale, come massimo un bisettimanale perché chiuso un bisettimanale ne può partire un altro e quindi per far partire un bisettimanale di cosa avevamo bisogno? Avevamo bisogno per le regole almeno di 1, 2, 3, un t-1 anche solo a tre tempi rialzista o laterale o parzialmente laterale. Che cosa abbiamo avuto? Salita. Per cui perfetto, anche giocando in difesa cercando un laterale, qui avevamo un t-2, un ciclo a due giorni sul laterale andante, qui adesso abbiamo persino la condizione necessaria e sufficiente per chiudere il t-1 e fare un ultimo tentativo di rimbalzo verso l'alto. Notando peraltro che siamo andati in Golden Cross, per questo la prima cosa che faremo sarà mettere un allarme a 15.933,64 15.933,64 Per valutare un eventuale short Sempre però fate attenzione a swing, tempo sopra un minimo per far partire un quinto t-3 Qui saremmo ancora 28 barre sul massimo 43 che può durare il quarto t-3 Per cui questa è l'indicazione che va data solo ed esclusivamente se il quinto t-3 partisse effettivamente Ovvero ci ritrovassimo in quest'area e con almeno 5 barre invece che le 4 attuali Se non si andasse da nessuna parte e si tornasse a scendere, facciamo attenzione che potrebbe essere ancora la chiusura del quarto t-3 E questo è per quanto riguarda il DAX Per quanto riguarda il MIB, stessa cosa, ci aspettavamo discesa e poi rimbalzo Proprio in concomitanza dalla media mobile a 50 periodi in rosso Salita anche in questo caso Partenza persino da quello che possiamo controllare di un nuovo t più 1 Non soltanto di un nuovo t settimanale E quindi spinta rialzo 1, 2, 3, 4 Qui, attenzione perché stiamo consumando il tempo di inverso E quindi ci sarà più possibilità di utilizzare eventualmente Per chi lo sa fare del gruppo premium e per gli esperti Un tecnica 2 short Sempre ricordandoci di guardare anche il time frame da questa parte E quindi Eccoci qua Ricordarci che siamo a 11 barre E si può ancora provare a salire tutto oggi Chiudere con candela verde Domani aprire con un top superiore E candela rossa per far partire il nuovo settimanale inverso Il nuovo t inverso Per cui Sempre prudenza Prima di anticipare uno short O studiate O siete nel gruppo Oppure Rischierete soltanto di farvi male Perché? Perché ci sono determinate regole che vanno seguite Prima di provare un'operazione Perché noi programmiamo tutte le operazioni E quindi non facciamo le cose a caso D'accordo? Anche qui vedete tante cose Ma non vedete tutto quello che faccio vedere nel gruppo premium Direi che è tutto Vi ringrazio per il vostro tempo E vi auguro una buona giornata Almeno buona Arrivederci